Ciao a tutti, io mi chiamo Lina e benvenuti nel mio canale e oggi questo video è speciale perché vi presenterò una cosa bellissima, qualche settimana fa i miei genitori mi hanno comprato quella cosa, adesso ve la faccio vedere Bene, adesso la cosa speciale ve la farò accompagnare, aspettate solo un attimo, prendo la mia bocchetta magica e baby bambù Guardate, eccola qua, la mia gattina, guardate che carino, ehi Lulù, facci vedere, facci vedere L'ha chiamata Lulù infatti, ehi, questo è il suo gioco preferito quindi, ecco, sto vienendo fuori Guardate, guardatela, che bello, ha gli occhi azzurri, facci vedere anche le gambe, la cucciola Ehi, gioca col suo pupazzino, ma cosa fai, cosa fai, cosa fai, guardate, guardate che belli occhi azzurri che ha Mi piace questa scatola colorata veramente, eh, cosa fai, sei pazza, sei pazza, ma volete sapere qual è il suo gioco preferito Il suo gioco preferito sono le nostre ligia, cioè le mie e quelle di miei genitori e poi, il secondo è questo pupazzo, infatti, si gioca quanto di giorno? Ehi, vedete, ehi, 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 ehi fuori, ehi fuori, guarda, un pozzino, tuo preferito, un preferito Guarda! santa mia no, fatti già è dentro la scatola per sapere che qualche giorno fa l'avevamo portata da veterinari abbiamo scoperto che è femmina ciao mia piccola amore guardate che occhiazioni Sì! Sì! Voi in un dico! È comunque molto bello! È il compagno! È molto bello! Sì! Sì, come è il coniglio! È vero! Guardate! Ancora vai! Puoi uscire? Puoi uscire una volta per tutte? Non vuole uscire! Un po' di spazio! Guarda! Eccola! Esci fuori! Ma ragazzi, voi vi ricordo se avete un animale domestico, per esempio il gatto o il cane, vi ricordo che dovete lavare spesso le mani. Ma comunque ragazzi, prima di concludere il video, dico solamente che Lulu, c'è la mia gattina, è un po' paura quando si muove la scatola. Lulu, la mia gattina, ha un canale YouTube. Quindi, si chiama Lulu Cat. Te l'ho trovata qui sotto in descrizione. Ma comunque ragazzi, oggi qui è tutto dalla mia Luluina. Guardate così carina qua ragazzi. Questa rompera di oggi si conclude qua. Lulu è scappata, anzi sta ritornando. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale e non perdetevi nessuno dei miei prossimi video con Lulu. Quindi, ciao! Ciao! Ma prima, iscrivetevi sotto nei commenti se mette un animale domestico. Ciao! Ciao!